Musica Noi siamo da sempre un brand attento ai cambiamenti, ai nuovi trend e credo che la musica sia un perfetto connubio con il marchio Fiat anche da un punto di vista storico, tutte le esperienze che noi abbiamo avuto negli anni Red Ronni ci ha proposto un'iniziativa che abbiamo sposato immediatamente si tratta di un'iniziativa non roboante come altre che magari noi stessi sponsorizziamo in altre occasioni ma un'iniziativa che viene dal basso, quasi dal cuore perché vuole dare spazio ai giovani ma ai giovani che propongono se stessi quindi non vengono qui a presentare brani, musica altrui bensì la loro musica avrei una storia da raccontare Via da qui, via da qui, via da qui, via da qui che cosa poi ti aspetti di trovare di diverso da noi due Immagina che niente possa ucciderci Parlami di te come non fossi stato mai lontano e tornerò da te con questo cielo in mano Oggi non ci sono tante opportunità per i nostri ragazzi di poter fare una cosa di questo tipo quindi Fiat a questo punto ha preso questa decisione di essere assolutamente al fianco sia di Red Ronni che dei ragazzi per dare opportunità a chi oggi naturalmente non l'avrebbe So solo che questa iniziativa è sicuramente molto aperta è praticamente tutto digitale, è tutto condivisibile viviamo nella sharing economy quindi manderemo live tutte le puntate itineranti per l'Italia di questa iniziativa chiunque potrà esprimere un parere su un artista, su un altro, sull'iniziativa stessa è veramente un'iniziativa democratica e credo che un'azienda come la nostra in Italia abbia anche la responsabilità di essere presente in occasione di questo tipo